Musica Bentrovati a tutti dai spettatori di Talenicosia, questa è la nostra flash provinciale del 21 ottobre curata dalla nostra redazione La Digos Edienna, coordinata dal servizio centrale antiterrorismo della polizia di prevenzione dalla procura distrettuale della Repubblica di Caltanissetta ha eseguito un arresto nei confronti del 25enne pakistano Bilal Mohamed, accusato di associazione a delinquere confanita di terrorismo L'uomo avrebbe divulgato su internet materiale inneggiante alla guerra santa e al martirio esticando al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo Perquisizioni sono state eseguite anche nelle province di Mantua, Enna, Prato, Milano e Como La Digos è giunta all'arresto dell'uomo dopo che il 14 ottobre 2014 si erano verificati dei disordini al centro di accoglienza Città del Sole di Piazza Armerina ad opera di nove cittadini pakistani, tra i quali lo di erano arrestato Bilal Mohamed, leader all'interno della comunità pakistana presente a Piazza Armerina L'uomo inoltre gestiva due profili Facebook su entrambi i profili, pubblici, postava e condivideva foto e commenti inneggianti alla violenza, la jihad e dal martirio palesando la sua appartenenza ad un'organizzazione pakistana già dichiarata di matrice terroristica militare, denominata Sipah el-Sahaba Pakistan In uno dei numerosi post pubblicati dall'indagato all'interno di uno dei due profili Facebook viene riportata la seguente frase Cerca di interessarti al martirio, la jihad andrà avanti fino alla fine L'indagine protrattasi per quasi un anno ed estesa anche in un ambito di collaborazione internazionale dal servizio centrale antiterrorismo della direzione centrale della polizia di prevenzione, si è giovata anche di attività di intercettazione telefonica ed ambientale In particolare in alcune conversazioni sono stati registrati dialoghi tra l'arrestato e i suoi connazionali vertenti su addestramenti militari e disponibilità di armi Su una base delle risultanze investigative emerse su richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo il giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Carta di Setta ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti del 25enne pakistano In sede di esecuzione ha risposto perquisizioni locali e personali presso i luoghi dove nel tempo ha soggiornato Bilal Muhammad Tale attività hanno interessato oltre alla città di Mantova o in atto di Moravalo di erano arrestato anche Piazza Ramenina, Prato, Cerro Maggiore in provincia di Milano e Lomazzo in provincia di Como Nell'ambito del medesimo procedimento penale risultano altri sindacati per l'ipotesi di cui l'articolo 277 bis del codice penale altri due cittadini extracomunitari in collegamento con il Bilal Muhammad nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria ha disposto analoghe perquisizioni locali e personali interessate da quest'ultima attività le città di Como e Trapani Il sindaco di Nicosia ha nominato il nuovo assessore della sua giunta che sostituisce la dimissionaria Maria Giovanna Scancarello si tratta della docente di economia aziendale Lucia Marino che nelle ultime elezioni si era candidata per il consiglio comunale nella lista Cambiamo Nicosia al nuovo assessore il sindaco ha segnato le medesime deliche della precedente collega sostanzialmente non cambiano gli equilibri all'interno della giunta e della coalizione che sostiene il primo cittadino Luigi Bonelli l'assessore ai servizi sociali Lucia Marino è espressione della stessa lista civica da cui era uscita la designazione e la nomina di Maria Giovanna Scancarello Lucia Marino si è laureata in economia e commercio presso l'Università di Catania ed ha ottenuto la specialistica in direzione aziendale e sposata da madre di un bambino attualmente insegna a Pietra Persia in un istituto superiore Un milione e mezzo di euro è quanto ha richiesto l'ASP di Enna, l'assessorato regionale alla salute per il progetto di adeguamento della compartimentazione antincendio dell'ospedale Basilotta di Nicosia con questo progetto esecutivo elaborato dall'ASP l'ospedale di Nicosia si adeguerà alle prescrizioni previste dal comando provinciale dei vigi del fuoco di Enna verranno realizzate le opere relative alla compartimentazione delle scale, dei depositi e dei reparti con strutture verticali ed inoltre saranno installate in corrispondenza con gli accessi a ciascun reparto porte di sicurezza con la chiusura automatica Il progetto consente di raggiungere gli obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone per la tutela dei beni contro i rischi di incendi Questi finanziamenti provengono dai 7.754.000 euro che il Cipe nell'ambito di un programma di investimenti ha assegnato al Regione Sicilia Caterina Asciuto al timone della sezione di Leonforte della FIDAPA Italy è stato ufficializzato il nuovo direttivo che affiancherà la neopresidente per il bienio 2015-2017 il passaggio di consegne è avvenuto tra Maria Concetta Glorioso e Caterina Asciuto professoressa in pensione che fu la prima presidente della sezione un ventennio fa Le cariche della sezione FIDAPA di Leonforte per il bienio 2015-2017 oltre alla presidente Caterina Asciuto vedono nel direttivo Anna Maria Giunta come vicepresidente Dorina Randisi, segretaria tesoriere Giuseppa Screpis past presidente Maria Concetta Glorioso le consigliere Maria Algozino, Filippa Aneli Felicia Rizzo, Francesca Pirronitto, Rita Ciurca, Lorena San Martino i revisori dei conti sono Saretta La Ferrara, Rosaria Lamantia, Italia Salamone per la prima volta in ottemperanza il nuovo statuto è stato eletto alla rappresentante Young di sezione Maria Antonietta Buttafuoco alle cerimonie hanno preso parte la vicepresidente distrettuale Cettina Corallo la segretaria distrettuale Maria Ciancitto e la rappresentante distrettuale Young Francesca Tremoglie inaugurato giovedì scorso presso il centro polifunzionale di Nistoria l'ufficio H, servizio offerto al territorio da parte di un'amministrazione che considera fondamentale proporre un punto di riferimento a chi si trova ad affrontare situazioni difficili e complesse legate ai casi di disabilità soddisfatto ed orgoglioso per il risultato raggiunto il sindaco di Nistoria Armando Colorioso che ha ribadito la propria gioia per essere riuscito a portare a termine quello che in campagna elettorale era stato presentato come uno degli obiettivi da raggiungere indossando la fascia tricolore e delle solenne occasioni il primo cittadino ha sottolineato la necessità di fornire un servizio di cui potranno soffrire anche i paesi vicini per far fronte ai bisogni della comunità l'ufficio H, gestito all'associazione di promozione sociale ugualmente liberi a titolo completamente gratuito attraverso un'equip multidisciplinare e competente mette a disposizione degli utenti attività di formazione, consulenza e documentazione per l'autonomia delle persone diversamente abili quattro i punti cardi negli obiettivi principali promuovere i diritti delle persone con disabilità fornire adeguate informazioni cercando di dare risposte concrete alle richieste indirizzare i soggetti richiedenti verso gli uffici competenti per le diverse erogazioni socio-assistenziali e le varie pratiche proporre progettazioni sociali in materia di autosufficienza e disabilità il nuovo ufficio sito presso il centro polifunzionale di Nistoria in via Ventimiglia darà la possibilità a tutti i cittadini di trovare volontarie competenti e motivate il martedì mattina dalle 10 alle 12 e 30 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 e 30 volontari che offriranno un valido supporto un concreto sostegno e fungeranno da guida per la soluzione dei diversi problemi e necessità e con questo abbiamo concluso vi do appuntamento alla prossima edizione dell'inizio e flash curate dalla redazione di Telenicosia per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione chiocciolatelenicosia.it un saluto da Sergio Leonardi www.telenicosia.it